Mauro Cornioli, sindaco di Sansepolcro, è stato chiamato in causa dai consiglieri del PD della Valtiberina che protestano formalmente per le tariffe dell'assistenza domiciliare a carico delle famiglie con minori non autosufficienti. Sì, allora, partendo da un presupposto, fermo restando che tutti i minori in età scolastica hanno gratuito questo servizio per scelta dei sindaci e del sociale dell'Unione dei Comuni. Partiamo da un concetto importante che è la contribuzione che la Regione Toscana, dunque il PD regionale, ha stabilito per tutti i servizi sociosanitari. I nostri anziani quando vanno in RSA pagano mensilmente 500, 600, 700 euro. A volte viene fatta una clattenuta importantissima sulla pensione, vorrei arrivare, non dico quasi alla totalità. Però la comunità, presso questo, ha l'obbligo di mantenere, di servire, di sostenere chi in quel momento è in difficoltà. Rispetto ai ragazzi che purtroppo in questo momento, partendo dalla legge del 2008, nel 2015, furono stabilite delle tariffe, non sono mai state applicate. Quelle tariffe allora furono stabilite dai sindaci Frullani, Laferla, Renzi, dai sindaci della Valtiberina Toscana, non sono state mai applicate. Nel 2018, quando con la unificazione del discreto nel sociosanitario c'è stata un'attenzione rispetto alla compartecipazione, è stato deliberato di applicare le tariffe. Erano tariffe importanti, vorrei dire anche sproporzionate, sono state sospese. Nel 2019 le tariffe migliori che ci sono nella provincia d'Arezzo sono state applicate e oggi ci ritroviamo in una condizione dove purtroppo da qualcuno è stata cavalcata politicamente, io capisco le problematiche del disagio di chi ha ragazzi giovani e anche meno giovani con delle disabilità importanti, però è una legge regionale fatta dal PD regionale che obbliga i sindaci a fare questo. Chi dice che si può fare diversamente sa che è demagogia. Cosa è fattibile? Sono fattibili degli interventi puntuali, dei progetti mirati su dei casi specifici, i casi di tariffe importanti sono pochi. Io mi sono astenuto quando c'è stata questa approvazione come consigliere del PD. Vorrei far di meglio, però è la responsabilità di chi governa. In questo momento è complesso fare di meglio e l'impegno è quello di poterci lavorare per vedere l'anno prossimo di poter ottimizzare ulteriormente.